Altri due innesti per la Gelbi sono la società del presidente Maurizio Puglisi ha ufficializzato gli ingaggi di Roberto Santosuosto, centrocampista classe 91 e del 21enne attaccante Tandara. Il primo arriva dall'eccellenza, nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia delle clanese, mentre il secondo si tratta di un ritorno in rosso-blu. Tandara infatti la scorsa stagione era in prestito all'Agropoli. La punta che in passato ha giocato anche con le maglie del Taranto e della Vulto Rio Nero è una scommessa del patron e del direttore sportivo Niccolò Pascuccio per rinforzare la nuova Gelbison che sarà allenata da Alessio Martino. Un progetto giovane che richiederà un grande sforzo per confrontarsi in un torneo che si annuncia molto competitivo con l'obiettivo di difendere la categoria. Intanto ieri la società vallese ha perfezionato l'iscrizione al campionato di Serie D con un giorno di anticipo rispetto alla data di scadenza fissata per oggi. La società del presidente Pugliesi ha inviato al Dipartimento Interragionale della Lega Nazionale di Lettanti tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alle prossime competizioni. Ora andiamo avanti a vele spiegate, dice il presidente, insieme al direttivo, ai soci, allo staff tecnico e naturalmente ai tifosi rosso-blu siamo pronti a costruire la nuova Gelbison ed affrontare con impegno e professionalità il prossimo campionato. Intanto quest'oggi allo stadio Morra secondo stage per tutti i nati nel 2000-2001.